Il mio padre era Alzopiano e la mamma Sarachella lo chiamavano Sarachella A mio padre Marasciallo perché ero cattivo, cattivo in che senso, ero troppo sveglio, energico I Lemmo, i Lemmo come venivano chiamati, quelli dell'officina Lemmo, come facevano? Come soprannome, palla nera Palla nera, poi abbiamo la palla di Ciaccia, poi abbiamo Serpanculo che pure è un altro soprannome Questo per distinguere le famiglie, molti avevano nomi uguali e allora c'era soprannome Per esempio mio papà aveva due cugini che avevano lo stesso cognome, lo stesso nome Per distinguerli, allora papà era Giorgio Giorgitto L'altro che era più grosso e più ricco lo chiamavano Giorgione E l'altro invece gli hanno dato il nome di, perché faceva le scorreggie, Giorgio Lavescia Ma! 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 Ma!